ciao ragazzi oggi parliamo di accordatori a clip e vi parlo di questo accordatore a clip della geua penso si dica così che mi ha davvero stupito per l'ottimo rapporto qualità prezzo lascerò il link di amazon qui nella descrizione e attualmente costa meno di 6 euro come vedete è molto piccolo si apre in questo modo e si attiva quando lo andiamo a mettere sul manico del nostro basso o della nostra chitarra ora vi faccio vedere come si comporta come vedete si è attivato subito appena l'ho messo e immediatamente mi permette di accordare ora come accordatore mi sembra abbastanza preciso è molto comodo funziona sia con la chitarra che col basso non so voi ma a volte mi è capitato nei negozi di provare accordatori a clip economici che andassero bene per la chitarra ma non per il basso a volte alcuni accordatori a clip economici fanno difficoltà col basso questo si comporta molto bene a volte bisogna avere quel po di pazienza come capita a volte con gli accordatori a clip in generale soprattutto quelli economici ma dato il prezzo può rimanere molto utile in sala prove e live onestamente preferisco l'accordatore a pedale e però se non dovete fare grandi cambi di accordatura durante il live questo potrebbe rimanervi simpatico anche per questa volta è tutto se lo comprate fatemi sapere cosa ne pensate e vi saluto ciao